I carabinieri del comando provinciale nel corso dei servizi di controllo effettuati ieri notte hanno arrestato per furto due cittadini rumeni di 18 e 20 anni domiciliati nel campo nomadi di strada della Rivore. Una pattuglia del nucleo a radiomobile ha sorpreso i due soggetti in corso Sandro Botticelli all'interno del cortile di un'area in disuso di proprietà della società alterna. Ad attirare i militari è stato il fascio di luce della torcia usato dai malviventi che sono stati colti mentre hanno intenti ad ammassare cavi di rame che avevano poco prima prelevato da una cabina di bassa tensione. Complessivamente i carabinieri hanno recuperato materiale per un peso di circa 150 kg che è stato restituito alla società proprietaria dello stabile. Ai due ladri è stata contestata anche la violazione amministrativa delle norme anti-covid trovandosi in giro per di più per commettere reati in pieno orario notturno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.